Perlusconi ha fatto un'intervista in esclusiva poco fa al Tg1. Invito gli italiani a vedersi questo sketch, un film di repertorio preconfezionato, recitato, con un po' di cipria in più, che racconta la discesa in campo del 1994, dicendo, cari italiani, date retta a me perché io vi do testualmente un piano per la casa, un piano per il Sud, una riforma dell'articolo 41, la riduzione del fisco, la defiscalizzazione delle imprese, insomma vi faccio tutti più felici e contenti nel 1994, con la differenza che da allora adesso tutto quel che ha detto non ha fatto, invece ha sistemato solo gli appari suoi. Nel merito, io appena ho sentito questa cosa, da dove cominciamo ha detto? Cominciamo dalla riforma della Costituzione, ma come, semmai dalla casa di chi non ce l'ha o di chi non può permettersela di pagarla, non dalla Costituzione dell'articolo 41. E allora mi sono andato a prendere l'articolo 41 e ho visto, l'articolo 41 dice l'iniziativa economica privata è libera, ora che deve modificare? Deve scrivere arbitraria? E fare come mi pare piace a me? Che cosa deve scrivere di più? Ecco, questa presa in giro degli italiani, questo è l'articolo 41 della Costituzione, questa presa in giro degli italiani che per far ripartire l'economia del Paese bisogna cambiare la Costituzione e non invece fare degli interventi concreti e su questo rispondo portasse domani mattina... Scusi, il PD ha già reagito dicendo che il favore più grande che può fare Berlusconi per il rilancio dell'economia è di andarsene a casa. Ma potete mai dire voi a Dragola, fammi il favore, vatteni via dal pronto soccorso? Bisogna mandarcelo via, ci vuole 316 parlamentari alla Camera dei Deputati per mandarlo via, perché quello si è inchiodato alla sedia, non lo schiodi, manca a tirarlo via. Per schiodarlo bisogna fare grandi manifestazioni di piazza per convincere i cittadini a dire basta la prossima volta e non votatelo più. E al Parlamento bisogna mettere con le spalle al muro i deputati, soprattutto quei venditori venduti da 30 denari che non si rendono conto, che svendono la loro dignità per mantenere in vita un governo che non è più in grado di governare. Ma chi è mai gli è venuto in mente della patrimoniale? Io quando ho sentito questa storia della patrimoniale, io che dovrei essere quell'opposizione che la propone, me lo sono dovuto andare a rileggere perché manco più mi ricordavo cosa fosse. E quando l'ho riletto ho semplicemente detto, ma siamo matti, com'è possibile tassare gli italiani per rimettere a posto i conti dello Stato? Per rimettere a posto i conti dello Stato bisogna intervenire nelle istituzioni. Quindi contraria alla patrimoniale? Totalmente contraria alla patrimoniale, che è cosa diversa dalla tassazione delle speculazioni finanziarie che sono al 12,5% mentre la tassazione degli stipendi e delle pensioni al minimo sono del 23%. La verità è una e una sola, che il Paese sotto la gestione Berlusconi ha aumentato il debito pubblico, e questa è la matematica, non ci piove, e che in questa legislatura, ancora anche in questa legislatura, il Parlamento si occupa soltanto di fatti che non riguardano i cittadini. Perché nel mentre ha parlato di queste cose, che sia chiaro, lo voglio dire anche al Dottor Folli, intervenire per fare un piano caso, un piano sud, un rilancio dell'attività imprenditoriale, eccetera. È sacrosanto necessario e vitale. Il problema è che mentre discute di questo, in Parlamento oggi stanno calentarizzando il processo breve e le intercettazioni. Direbbe il vecchio di Pietro, prima dei 60 anni, che ci azzecca? Lo voglio le elezioni anticipate, lavoro per volerle, ma temo che Berlusconi miri a vivacchiare e soprattutto temo che quando va via lui, poi con la scusa di fare un governo di responsabilità nazionale, si continua a vivacchiare. Io ritengo che in un Paese civile non si possano fare accordi di governo se non si abbia un'identità di programma e una lealtà delle persone che si vogliono mettere insieme per governare. Prima, in quest'ottica io credo nel sistema bipolare, e su questo mi ha insegnato molto i suoi scritti, il sistema bipolare vuol dire o stai una parte o stai all'altra e devi dire ai cittadini con chi stai per fare che cosa. In quest'ottica io voglio stare nel centro-sinistra e contro le politiche del centro-destra e nell'ambito del centro-sinistra e credo che oggi la coalizione che si deve proporre, deve proporre un programma in alternativa a Berlusconi, deve essere costituita da questa coalizione. E ho proposto PD, IDV e SEL. Ritengo un accordo contro natura, fare un accordo programmatico con realtà con cui non puoi realizzare il programma. E faccio solo due o tre esempi. Quindi no casini, no fini per capire. Mi ascolti, mi ascolti perché questa cosa del no cosini, no fini, io a letto non ci devo andare né con fine, no casini. Il problema è politico, la prego, non banalizziamolo così. Allora io le sto dicendo, io ho fatto un referendum per dire no alle centrali nucleari, io ho fatto un referendum per dire no alla privatizzazione dell'acqua. Come si chiama? L'UDC piuttosto che FLI su questi temi sono a favore o sono contro? Allora come posso io fare un accordo con loro su un programma che non posso realizzare insieme a loro? Ecco perché io dico, ritengo che sia, e lo ribadisco, un accordo contro natura, mettersi tutti insieme su una realtà programmatica e non unitaria. Poi alla seconda domanda che mi viene fatta, ma se questa è l'unica condizione per liberarci da quel che ritiene essere il male per il Paese? Io dico, c'è stato già negli anni 40 quando a quel punto, a un certo punto, dopo, a un certo punto si è deciso di mettere insieme tutti per liberarci dal regime di allora. Bene, io credo che sia prioritario per il Paese, quindi io farò il possibile per creare una coalizione di governo. Se però il mio isolamento o la mia non partecipazione deve essere la causa per far vincere ancora Berlusconi, io sono disposto ad imbolarmi ancora all'altare per salvare il Paese. Grazie a tutti.